Quello che avete appena visto è mio padre nascosto in un campo della pionura padana. Due o tre settimane fa ci stavamo divertendo a fare delle prove su ricerca persone disperse con il nostro drone equipaggiato con una termocamera. Ovviamente ci stavamo divertendo perché se il nostro lavoro non ci diverte, se la nostra vita non ci diverte, che senso ha? Ecco oggi vorrei parlarvi appunto di come la vita e le mie esperienze lavorative mi hanno portato a cercare con un drone mio padre nascosto in un campo della pionura padana. Tutto è iniziato quattro anni fa, nel 2017. La situazione in Italia era un po' caotica, non si capiva bene dal punto di vista lavorativo dove volevano andare a parare. C'erano dei problemi sui contratti, tempi determinati, indeterminati, licenziamenti, non c'era la legislazione che c'è già adesso. Io nel frattempo stavo studiando ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni all'Università di Trento. Mio padre lavorava come informatico e ogni tanto lo andavo a trovare, andavo a trovare i miei genitori a casa al fine settimana, staccando dall'Università, finché un giorno non mi telefona mia madre, una sera mi dice guarda papà è stato male, ha perso il lavoro ed è crollato emotivamente e è in ospedale. Lì per lì ovviamente gli ho detto mamma non me ne frega niente del lavoro di papà, arrivo. Da Trento sono partito come un missile e sono andato all'ospedale. Fortunatamente stava bene, era crollato proprio emotivamente, era imploso su se stesso per questo shock. Però insomma stava bene, nel giro di qualche giorno poi si è ripreso. Passati questi giorni ovviamente era senza lavoro e chiaramente come ogni persona fa senza lavoro si è messo a cercarne uno nuovo. Problema, come vi dicevo in precedenza, la legislazione non c'era, c'erano problemi dal punto di vista lavorativo, non c'erano nuovi posti di lavoro. Allora lui si è messo comunque a cercare il lavoro, a mandare curriculum a destra e a sinistra, ma a 51 anni un informatico non viene più preso. Ti dicono sai come a 51 anni non riesci più ad acquisire dei nuovi know-how. Oppure beh guarda sei molto bravo, 27 anni di esperienza in ambito IT, perfetto, però noi cerchiamo neolaureati. E a quel punto cosa fai? Nel breve periodo non è un grande problema, non ci sono delle gravi difficoltà economiche, non lo so nel primo mese, nei primi due mesi. Ma alla lunga è un bel guaio, alla lunga non si sostiene una famiglia. Fatto sta che aveva un po' di tempo libero ovviamente, mandava dei curriculum, faceva qualche colloquio, ma alla fine della giornata restava a casa. Ha scoperto, non so come, una nuova passione, la passione per i droni. Ha iniziato a vedere dei video su YouTube, mi scrive, mi fa, ma Luca ma tu li conosci i droni? Sono una figata, ma un bel giocattolo. Ne ho comprato uno giocattolo su internet. 20 euro. Proprio un giocattolino, era questo. E che gli ho detto, vabbè papà, bravo, mamma cosa ti dice? Eh, tua mamma mi dice su perché lo faccio sbattere contro i mobili, inseguo il cane con il drone, e ovviamente mia madre era su tutte le furie per questa cosa. Torno a casa al fine settimana e lo trovo, con questo drone piccolino, a controllare le grondaie del tetto. Non solo il suo, ma già che c'era quello del vicino. Gli altri vicini, accortisi della situazione, gli hanno chiesto, pagandolo in pizzette, bibite, torte, che poi abbiamo dovuto mangiare per i tre giorni successivi, gli hanno chiesto anche loro, ma controllami il tetto come sono messe le mie tegole. Perfetto. Lui, quel fine settimana, ha scoperto che c'erano delle potenzialità con questa nuova tecnologia, i droni. Ha svolto la sua analisi di mercato nei giorni successivi, e poi mi telefona e mi dice, Luca, ascolta, io voglio fondare una società basata sui droni, voglio fare il pilota di droni. Però non mi interessa tanto fare le riprese video, andare in giro e fare il promoter facendo delle riprese, il vlog, eccetera. Perché io, come vi dicevo, stavo studiando ingegneria e gli ho detto, papà, sai che in realtà le mie competenze potrebbero esserti utili, potrei aiutarti in qualche modo, anche se non attivamente e partecipando ogni giorno alla tua attività lavorativa, in realtà potrei darti una mano, con qualche nozione, qualche analisi di mercato anche io. Facciamolo. Sbatte proprio il pugno sul tavolo quel pomeriggio e mi fa, facciamolo, apriamo una società. Fu così che il primo di giugno del 2017 viene fondata la nostra società, padre e figlio, con l'obiettivo appunto di portare questa nuova tecnologia sul mercato dal punto di vista scientifico applicativo. Ovviamente la prima cosa che c'è da fare è, va bene, abbiamo fondato una società, vogliamo usare i droni, serve un pilota. Lato mio non avevo il minimo interesse per mettermi lì a fare il pilota di droni, non mi interessava proprio zero. Io stavo con i miei piedi ben piantati per terra e gli avrei dato una mano con qualche software, qualche analisi dati, anche perché mi stavo per laureare con la mia laurea trennale e avrei proseguito con gli studi magistrali. E quindi gli ho detto, papà, vai, muoviti, fallo. Fatto sta che dalla fondazione, in circa cinque mesi, sei mesi, andare a fine anno, lui non solo era diventato un pilota di droni, ma era diventato istruttore di piloti. Questo per me era stato un grosso orgoglio, una fonte di orgoglio veramente fortissima per una persona che fino a sei mesi prima era attacciato come il vecchietto che non avrebbe più imparato niente in vita sua, a 51 anni. Ovviamente la difficoltà iniziale è stata quella di farsi conoscere, di far capire alle altre persone, ai potenziali clienti, che potevano avere un reale vantaggio dei nostri servizi. E infatti niente è stato rose e fiori. Nel giro di un anno dalla fondazione, verso inizio estate del 2018, vedevamo la società più che come una fonte di ispirazione, la vedevamo come un boomerang sulla via del ritorno, pronto ad arrivarci in faccia. Quindi eravamo abbastanza delusi e amareggiati da ciò che ci stava succedendo. Però è stato in quell'estate che è scattato qualcosa. Le prime richieste dei clienti che arrivavano di progettare qualcosa, di iniziare a sviluppare qualcosa per loro. Tra queste richieste c'erano le analisi degli impianti fotovoltaici. Non so se conoscete gli impianti fotovoltaici come sono fatti. Sono delle distese di questi pannelli rettangolari bluastri e sono enormi. È stato richiesto di fare l'analisi con il drone. Allora, dal lato nostro, dal punto di vista strumentazione, eravamo sul pezzo. Drone top di gamma, termocamera acquistata, tutti pronti. Mio padre addirittura a quel punto ha detto, va bene, per fare le analisi e per potermi prendere la responsabilità dai miei report termici, seguo un corso di termografia. Così diviene termografo di secondo livello, pronto per certificare, e inizia a fare l'analisi per il primo cliente del parco fotovoltaico. Chiama al telefono, una volta fatto il primo sorvolo e fa, Luca, oh, bellissimo, fantastico, sono pieno di dati, si vedono strabene tutti i difetti del parco fotovoltaico, vedrai che gli farò un report fantastico. Io ero gasatissimo, non vedevo l'ora di tornare a casa al fine settimana, no? Questo era un lunedì mattina, e io ho detto, non vedo l'ora che arrivi venerdì per andare a vedere cosa ha fatto, perché io ero molto curioso. Fatto sta che alla fine, quel fine settimana, non sono riuscito a scendere a casa, sono tornato il fine settimana successivo. Entro dalla porta, lo saluto, e lui, nervosissimo, perché nel salutare l'ho distratto e ha perso il conto dei pannelli. Provate a pensare, a contare ogni singolo pannello, questi sono migliaia a mano, per identificare qual è quello difettoso. Per poter fornire al manutentore un'indicazione precisa su quale pannello sostituire. A parte il fatto che la soglia di errore diventa veramente altissima, in più uno diventa cieco due mesi, continuando a fare questi tipi di analisi, davanti a un monitor. A che ho iniziato a pensare, ho iniziato a dire, ma non esisterà un automatismo per aiutarlo, per far sì che questi pannelli vengano riconosciuti in modo autonomo da qualcosa, un software, non lo so. Ho fatto qualche ricerca in rete, Google mi ha aiutato, ho trovato, sì, due o tre software che lo facevano, americani. Il problema è che in America le analisi sugli impianti fotovoltaici vengono fatte secondo gli standard di volo americani. Altezze fuori scala per l'Europa e figuriamoci per l'Italia. Questo non era applicabile nel nostro caso, serviva qualcosa custom, fatto da noi. e ho detto, papà, ma se io provassi a costruirti questo softwareino che fa questa analisi, guarda, le sto studiando, l'università, sto studiando riconoscimento di pattern, riconoscimento di immagini, analisi dati, learning automatizzato, posso provare a darti una mano, non ti prometto nulla, però, cioè, benché vada, abbiamo qualcosa. E che, lui mi dice, guarda, tieni, mi dà la chiavetta con sui dati e mi dice, però, mi raccomando, classiche frasi da padre, no, apprensivo, mi raccomando, non togliere tempo allo studio, ne hai già fin troppo da fare, riposati, lasciamo perdere. Ho chiamato un mio compagno di corso dell'università, nonché un carissimo amico, e gli dico, ma ascolta, se ti pago a pizza e birra, mi dai una mano a sviluppare un software? Gli ho spiegato, bene o male, cosa volevo fare, facciamolo, partiamo. dopo qualche mese, durante l'estate, così ci siamo messi a lavorarci sopra, una volta pronto, ci sembrava un bel progettino, una cosina carina, insomma, funzionale, precisa, veloce, dava quello che serviva, niente sfronzoli, niente interfacce grafiche che toglievano l'attenzione dai problemi reali, e l'ho portato a mio padre, gli ho detto, testalo, lui c'era rimasto, sembrava che avesse visto uno spettacolo di magia, praticamente, no? Perché per lui quello non esisteva, e quindi per lui era tutto nuovo, ma sarebbe carino avere questa e questa modifica, perché per il manutentore è più utile, questo e quell'altro, va bene, però sembrava, come dire, scettico, e niente, alla fine lui l'ha testato e in meno di un'ora aveva il report del nuovo impianto fotovoltaico che nel frattempo stava analizzando, ci avrebbe messo due settimane a farlo, a quel punto io ero contentissimo del fatto che gli avevo dato una mano, no? Gli avevo migliorato la sua situazione lavorativa attuale, lui sembrava, avete presente le videocassette, forse siete troppo giovani per le videocassette, però di quando si è piccoli che si muovono i primi passi, ecco, aveva la stessa espressione che c'era in quei video, un misto di orgoglio e felicità. Fatto sta che alla fine la chiave di volta dell'utilizzo del drone si era amplificata, cioè adesso si riusciva ad avere una precisione quasi superiore rispetto allo stato dell'arte con i tempi che non erano neanche paragonabili, era estremamente più veloce. Il passaparola è iniziato, quindi il primo manutentore l'ha detto all'amico, altro manutentore, che hanno iniziato così a farsi il passaparola vicenda indirizzandoli su di noi e il mercato è esploso. Mio padre allora cosa ha pensato? Non fermiamoci qua, c'è un'opportunità, una fiera dedicata ai droni a livello italiano, andiamo a presentare questa tipologia di servizio ancora mezza sconosciuta in Italia, che preferisce ancora fare l'analisi a mano e mettersi un sacco di tempo e pagare un sacco di soldi i manutentori perché la facciano. Allora andiamo a questa fiera, mi sono preso tre giorni di ferie dallo studio, sono andato con lui a Milano e abbiamo presentato questo servizio. Sono stati tre giorni veramente fantastici ma esplosivi. Io non riuscivo a pranzare, dovevamo stare attenti e nasconderci in bagno per mangiare alternandoci in modo che ci fosse sempre qualcuno. La molle di gente che è arrivata al nostro stand è stata allucinante, tant'è che c'era gente da tutta Italia che o era interessata al servizio in sé oppure altri che venivano lì ti dicevano va vabbè sì, bello però io non sono nell'ambito fotovoltaico avete fatto questo potete progettarmi quest'altra cosa? Magari cose assurde però venivano lì e chiedevano. Io credo che quello sia stato il punto di svolta effettivo in cui tutto ha preso il volo. Ormai sono quattro anni che la società è stata fondata e io se voglio parlare qualche minuto con mio padre al telefono devo prima controllare il calendario condiviso per vedere di non interromperlo nelle sue attività. Vi chiederete ma si lavora solo sul fotovoltaico quindi con i droni? In realtà tra le mille proposte che ci sono arrivate per nuovi progetti da poter proporre e sviluppare una in particolare mi ha affascinato. Questa proposta di progetto era collegare due farmacie che distano in linea d'aria più di sei chilometri con un volo autonomo di drone. Lo scopero era quello di trasportare medicinali urgenti da una sede all'altra senza appunto passare per la strada asfaltata. Diciamo che questa è stata una bella sfida a differenza di tanti progetti che si sentono alcuni dei quali sono veramente assurdi come vasche da bagno volanti. Diciamo che questo era veramente un progetto di sviluppo applicativo da confezionare per il cliente. La vera sfida è stata affrontare tutta la fase di sviluppo. Quindi partire dalla scrivania per analizzare i rischi ed effettuare anche la successiva mitigazione del rischio del progetto del drone autonomo in volo. Solo dopo un anno e mezzo di queste estenuante analisi a stretto contatto con l'ente nazionale preposto siamo riusciti ad arrivare ai test effettivi sperimentali su campo in cui abbiamo dovuto affrontare ulteriori problematiche più pratiche legate ad esempio alla trasmissione tra il radiocomando e il drone lato mio che all'inizio vi dicevo non avevo la minima intenzione di mettermi lì a prendere in mano un radiocomando e pilotare un drone mi sono sempre di più con il tempo incuriosito al lavoro che stava facendo mio padre dal punto di vista pratico e ho pensato che poteva non essere una cattiva idea ampliare il proprio curriculum e aggiungere un attestato un qualcosa in più fatto sta che l'anno scorso ho chiesto ad un istruttore di mia conoscenza potete immaginare chi di insegnarmi per affrontare gli esami poi per pilotare questo drone e per avere appunto anche io il mio attestato questo mi ha permesso di entrare ancora più in contatto con mio padre provate a pensare la scena dei film americani in cui c'è il padre che insegna a giocare a baseball al figlio nel giardino più o meno era la stessa scena con lui che mi insegnava a pilotare questo drone in mezzo ai campi sempre ovviamente questa è la mia storia in cui queste grandi opportunità si sono tramutate in risultati abbiamo sempre guardato al passato per affrontare al meglio il presente però tenendo sempre un occhio sul futuro allora io ti volevo chiedere quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato nell'inizio quindi nella start-up e come le avete superate diciamo che dal punto di vista più aziendale diciamo così le difficoltà sono state il fatto di far capire ai potenziali clienti ciò che noi stavamo facendo ciò che potevamo offrirgli no perché il drone era visto a quei tempi come un giocattolo quindi erano molto reticenti al fatto di crederci e di darci fiducia la fiducia iniziale di cui avevamo bisogno per dimostrare quel qualcosa in più dal lato più come dire familiare tra soci la quotidianità della famiglia si è mescolata con la quotidianità dell'azienda no non avevamo una sede fisica distaccata dalla casa nostra quindi alla fine il tutto si mescolava sempre non sempre era piacevole avere magari discussioni a tavola durante la cena che potevano riguardare magari la partita di calcio che c'era stata la sera prima e di punto in bianco si passava al bilancio della società quindi non era esattamente il massimo sotto quel punto di vista abbiamo avuto delle discussioni ovviamente come tutti i padri e figli però diciamo che le abbiamo risolte mi sento di dire egregiamente dal punto di vista personale per il lato invece più aziendale ci è voluto del tempo circa un anno poi con l'estate del 2018 fortunatamente siamo riusciti ad entrare nel mercato del fotovoltaico e a fare anche tutti gli altri lavori io ti volevo chiedere invece quali sono state le limitazioni che ha posto diciamo la legge nel tuo operare limitazioni che abbiamo trovato anche noi nei nostri progetti a scuola e quindi volevo vedere la tua visione anche su queste nuove regole diciamo che le limitazioni che la legge ci impone possono essere viste in due modi possono essere viste dal punto di vista negativo quindi come una limitazione vera e propria che ci impone di non fare qualcosa dal lato lavorativo è il primo fattore che interviene quando devi dire di no ad un cliente perché ti vuole far volare ma sei accanto a un aeroporto ad esempio dal punto di vista positivo invece se ci pensiamo meglio può essere un fattore di sicurezza le regole vengono messe perché così ci incrementano la sicurezza del volo e lo rendono quasi privo di pericoli quindi diciamo che sono le due facce della stessa medaglia lavorativamente parlando diciamo che i vecchi piloti forse con le nuove regolamentazioni che ci sono europee avranno qualche problema in meno nell'immediato futuro mentre i nuovi piloti che vorranno entrare in questo mercato emergente molto forte potrebbero avere qualche problema aggiuntivo potrebbero essere più limitati nella cosiddetta nuova categoria open tant'è che le carte e le regole dell'aria impongono limitazioni ulteriori per questa nuova categoria ci hai raccontato che nel primo periodo le aziende vedevano come dei giocattoli di Dioni volevo chiederti come è cambiata la visione da parte delle aziende appunto dei Dioni e quale sia il loro feedback rispetto al vostro lavoro diciamo che in questi quattro anni le aziende hanno maturato tanto sotto questo punto di vista hanno stanno comprendendo sempre di più ogni giorno di più le potenzialità di questa offerta la tipologia di servizi che ormai si propone con il drone è immensa ci sono un sacco di operatori ormai sul mercato lato nostro il vantaggio è stato di essere tra i primi a spingersi in questa nuova nicchia di mercato e siamo arrivati come dire ad essere quasi un punto di riferimento per tante cose comunque tante aziende si stanno addirittura proponendo loro stesse come fruttori di servizi quindi anche solo per avere il servizio interno cercano di avere la formazione senza avere l'esternalizzazione del servizio e quindi avere un'altra azienda che gli procura il materiale e la conoscenza ma solamente formare delle altre persone interne dei nuovi dipendenti che si vengono a creare quindi nuovi posti di lavoro che possono fungere da pilota e analisti e voi ragazzi quali altre prospettive vedete nel mondo dei droni? Beh secondo me i droni potrebbero essere usati anche dal punto di vista di ingegneria civile e quindi misure catastali oppure lavori più piccoli oppure la ricerca di persone scomparse come abbiamo visto all'inizio nel video di tuo padre in mezzo a un campo di Gran Turco giusto? Sì Sì di Gran Turco oppure di studio del rischio di eventuali territori frane o valanghe eventualmente appunto ricerca di persone scomparse dopo calamità naturali oltre a quello magari potrebbero esserci anche controllo del territorio dal punto di vista naturalistico Sì anche noi a scuola ci siamo interessati di vari progetti con i droni uno dei nostri ultimi progetti è questo drone ibrido che combina le caratteristiche di un drone e di un veivolo quindi alle ali e che riesce tramite dei sensori o delle fotocamere a infraro si riesce a monitorare il vegetato quindi sfruttando il fatto che può decollare verticalmente in aree magari in cui gli spazi per il decollo sì per il dicollo di un aereo sono un po' limitati il drone è utile perché riesce ad alzarsi verticalmente e poi sfruttare le caratteristiche di un aeroplano e monitorare larghe aree di vegetato con proprio queste fotocamere oltre a questo abbiamo anche cercato di creare una rete neurale in modo tale che il nostro veivolo potesse volare autonomamente sopra le aree di vegetato e quindi abbiamo appunto creato questa rete neurale per fare in modo che il nostro veivolo evitasse ostacoli durante il suo percorso abbiamo quindi scritto tutta la funzione da zero e poi dopo l'abbiamo iniziata ad allenare per poi in futuro implementare sul nostro progetto ti volevo domandare giusto un po' per concludere perché hai scelto proprio ingegneria elettronica tra tutte le tipologie di ingegneria che esistono questa è una buona domanda in realtà inizialmente quando ho scelto la facoltà di ingegneria elettronica che a suo tempo si chiamava elettronica e telecomunicazioni mi ero fermato il primo nome elettronica a quel tempo io pensavo di studiare come si costruiscono i pedalini della chitarra elettrica non gli effetti fatto sta che nel mentre che studiavo poi ho scoperto un'altra passione che era quella per le telecomunicazioni subito successiva che poi mi ha portato a continuare gli studi con la laurea magistrale in informazione e comunicazioni in cui ho studiato i sistemi del 5G del 6G e del futuro delle comunicazioni con una piccola vena di intelligenza artificiale quindi inizialmente è nato più per gioco che per studio però in realtà poi si è spostata un po' la mia passione grazie Luca per averci raccontato la tua storia e per la bella chiacchierata grazie a voi ragazzi grazie a voi